Musica Posso comunque garantire che tutte le scuole si sono ben organizzate. C'è stato un grandissimo lavoro da parte di tutti i dirigenti, proprio dirigenti, collaboratori scolastici, proprio per garantire una ripresa in sicurezza. Marina Salerno esprime grande gioia per l'apertura delle scuole, avvenuta lunedì 28 settembre. Pochi, dunque, sembrano essere stati i problemi dopo i tanti mesi di chiusura causa Covid. Si sono mossi per tempo bussando al MIUR. Tutta l'amministrazione comunale, ma anche la dirigente, ovvero la dottoressa Conte, si è messa a completa disposizione proprio per non perdere questi fondi e garantire anche il reperimento quindi di nuovi immobili. Però come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno optare per delle strutture temporanee, complete di tutti i servizi igienici, di impianti di riscaldamento, impianto di ariazione. Un tema centrale è quello del trasporto scolastico, che partirà il 2 novembre e sul quale lo stesso assessore annuncia novità non di poco conto. Anche con la ditta dei trasporti abbiamo tenuto diversi incontri. Abbiamo anche in questo caso ritenuto opportuno aumentare i mezzi di trasporto a disposizione. Quindi il Comune ha impegnato una somma maggiore rispetto a quella prevista per l'appalto, proprio per garantire un trasporto in sicurezza. Abbiamo messo a disposizione tre mezzi in più. Ancora incertezze invece sulla mensa, sulla quale ancora non c'è una data di start. Il servizio verrà erogato con la monoporzione, però per quanto riguarda la data di inizio credo che a giorni verrà pubblicato un avviso per presentare le domande.